Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Infippili per lavori 4 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in un sito a Scandicci, in un sito a la Strassigna e in un sito a Samminiato, tutte provenendo da Firenze. Per le autostrade in A1 in direzione Roma code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino e tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Sempre verso Roma si è verificato un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 rallentamenti per incidente tra Ulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!